andrà tutto bene puntata numero 375 oggi è mercoledì 22 luglio 2020 e sono le 10 e 14 dagli studi televisivi di Antenna del Mediterraneo a Capodorlando in provincia di Messina Gioacchino Onorati e da Ferrara a pochi passi dal castello Estense o castello di San Michele il monumento più rappresentativo di Ferrara Marco Damiani buona giornata Marco buongiorno Gioacchino Marco buona giornata e ben ritrovato perché tu sei stato il protagonista di una puntata di Vivere e Raccontare la numero 117 del 14 luglio 2020 in qualità di coautore del libro Manuale Pratico di Banca a cura di Marco Ferfoglia certo assolutamente Marco ecco tu sei meglio di me che da quando c'è stata la dichiarazione dello Stato di emergenza ci sono succedute molte moltissime norme sia per scongiurare il diffondersi della epidemia della pandemia e sia per scongiurare i rischi di un disastro economico certo disastro economico delle imprese e delle famiglie assolutamente sì ci troviamo di fronte a una situazione molto molto delicata dove come avevamo già accennato la volta scorsa anche il sistema bancario si è trovato di fronte a una situazione eccezionale hanno dovuto affrontare tutte le varie richieste di sospensione di moratoria le nuove richieste di finanziamento con la garanzia totale o parziale del fondo di garanzia ed è proprio in questo contesto che abbiamo introdotto nella prima intervista l'argomento delle centrali rischi centrali rischi che stanno diventando sempre più importanti considera che addirittura in questo periodo sono uscite delle delle notizie circa la sospensione delle centrali rischi cioè sembra quasi che in questo periodo la centrale rischi non è sospesa non serve più c'è questa percezione leggendo semplicemente i titoli del giornale io invece occupandomi di questo argomento il messaggio che voglio dare che a maggior ragione in questo momento l'imprenditore deve assolutamente conoscere queste banche dati perché queste banche dati incidono fino al 70% nel calcolo del rating che viene assegnato dalle banche proprio perché sono dati molto più aggiornati rispetto al bilancio e rispetto al bilancio hanno una caratteristica non sono informazioni che vengono fornite dal cliente ma sono informazioni alimentate dal sistema bancario e quindi sono considerate informazioni molto più oggettive Allora Marco vorrei che andassimo avanti molto ordinatamente e molto ad agio Ok Allora innanzitutto la centrale rischi è un edificio o è soltanto una banca dati e se è un edificio o una banca dati dove comunque si colloca dove è collocata? Benissimo Allora la centrale rischi Banca d'Italia in questo caso parliamo di Banca d'Italia è un archivio di informazioni questo archivio di informazioni viene gestito direttamente da Banca d'Italia ma le informazioni in esse contenuto vengono alimentate dalle banche stesse non solo banche ma anche società di leasing, società di factoring, società di cartolarizzazione ok quindi da adesso in poi se parliamo di banche parliamo di banche in senso esteso intendiamo anche società di leasing, società di factoring ad esempio questo archivio di informazioni come abbiamo detto è gestito da Banca d'Italia alimentato dalle varie banche quando un cliente viene segnalato nella centrale rischi Banca d'Italia c'è un limite di segnalazione intanto il limite è di 30.000 euro per ciascuna banca per affidamenti o garanzie e mi spiego se un'azienda ha un fido di conto corrente di 20.000 euro in una banca e ha solo quello se la posizione è regolare vuol dire che non è girata all'ufficio legale l'azienda non sarà segnalata in centrale rischi la centrale rischi Banca d'Italia ha un limite minimo di 30.000 euro vuol dire che invece però se a quella stessa azienda che ha un fido di 20.000 euro la banca concede un prestito di altri 20.000 euro il rischio Banca sarà oltre i 30.000 perché la somma fa 40.000 euro a quel punto l'azienda inizierà a essere segnalata in Banca d'Italia attenzione però che questo limite di 30.000 euro si riduce a 250 euro nel momento in cui un privato o un'azienda viene girato all'ufficio legale da parte della banca ecco un caso concreto in cui viene girato l'ufficio legale gira l'informazione alla Banca d'Italia le informazioni in centrale rischi sono tutte le informazioni relativamente al fido di conto corrente per esempio quanto viene utilizzato quel fido quindi un'azienda che ha 30.000 euro di fido utilizza a fine mese il fido per 10.000 euro sarà segnalato sia l'importo del fido di 30.000 e anche l'utilizzo a 10.000 euro vengono segnalati per esempio tutte le garanzie rilasciate dai garanti quindi dai soci dell'azienda in questo caso consultare la centrale rischi per esempio per l'imprenditore che nel tempo magari ha avuto diverse iniziative imprenditoriali ha rilasciato diverse garanzie nel tempo è molto importante fare la centrale rischi anche a livello personale per capire se di tutte le garanzie che ha rilasciato nel tempo c'è ancora qualcosa in essere che magari lui si è dimenticato e una cosa importante le segnalazioni in centrale rischi vengono rilevate prevalentemente diciamo il 90% delle segnalazioni riguarda i saldi a fine mese capisci che il problema è che l'ultimo giorno del mese è anche il giorno in cui gran parte delle aziende pagano le ricevute bancarie o le fatture ai propri fornitori quindi c'è una coincidenza di giorni dove l'ultimo giorno del mese l'azienda si potrebbe trovare a sconfinare temporaneamente magari solo per un paio di giorni prima che maturino le ricevute bancarie che è anticipato alla banca e però questo sconfino anche per due o tre giorni di fine mese comporta una segnalazione di sconfino in centrale rischi e questa segnalazione in centrale rischi segnalazione obbligatoria che deve fare la banca dove è radicato il conto sì, la banca viene fatta a livello di direzione una cosa che ci tengo a chiarire perché con alcun imprenditore è uscito questo argomento la segnalazione da parte della banca in centrale rischi non è una segnalazione che fa a livello personale il direttore di filiale ma è qualcosa di automatizzato quindi non è che la banca lo fa predispetto la segnalazione in centrale rischi viene tutto automatizzato quindi tutte le procedure delle banche in automatico rilevano gli affidamenti rilevano gli utilizzi dei fidi, dei prestiti, dei mutui e effettuano la segnalazione a Banca d'Italia quindi c'è un software vero e proprio che le banche hanno assolutamente affinché venga segnalata un'anomalia del conto sia di un'impresa sia di un privato esatto, con il limite dei 30.000 euro che abbiamo visto si sente sempre parlare di centrali rischi quindi qui stiamo parlando di centrali rischi Banca d'Italia centrali rischi Banca d'Italia è l'unica centrale rischi pubblica a segnalazione obbligatoria significa che le banche, società di leasing di cui abbiamo citato prima sono obbligate per normativa a segnalare in centrali rischi Banca d'Italia poi ci sono altre quattro centrali rischi private che quelle hanno un limite di segnalazione molto inferiore quindi vanno anche sotto i 30.000 euro e sono per esempio una delle quattro la più conosciuta è il CRIF dove nel CRIF viene rilevato anche il piccolo prestito da 2.000 euro il piccolo fido la carta di credito eccetera Marco un'altra domanda se tu hai preso una contravvenzione 5 anni fa 6 anni fa e non l'hai pagata questa contravvenzione anche quella va in centrali rischi e cioè i comuni le amministrazioni pubbliche la polizia locale può mandare l'informazione alla centrale rischi oppure no? no allora in centrali rischi queste informazioni non vengono segnalate però colgo l'occasione invece per dare un'ulteriore informazione in centrali rischi vengono segnalati la qualità della clientela dell'azienda faccio un esempio io anticipo presso la banca delle fatture nei confronti dei miei clienti nella mia centrale rischi viene rilevata la percentuale di clienti che non mi pagano quindi se un cliente non mi paga la segnalazione è nella mia centrale rischi ok? quindi questo vuol dire che l'imprenditore deve stare molto attento a chiedere l'anticipo delle fatture di clienti che devono essere il più possibili precisi assolutamente ti faccio un esempio ci sono delle situazioni dove per l'imprenditore il cliente è regolare ma per la banca in centrali rischi viene segnalato un insoluto ti faccio un esempio se un'azienda emette una ricevuta bancaria a carico di un proprio cliente e questo cliente non paga la ricevuta al giorno di scadenza ma fa un bonifico dopo 5 giorni per l'imprenditore quello è un buon cliente che ha pagato il ritardo di 5 giorni in centrali rischi invece quella rimarrà sempre un insoluto ed è logico che le banche quando valutano la situazione finanziaria dell'azienda se affidare o se confermare gli affidamenti la qualità della clientela oggi è un elemento molto importante quindi tramite la centrale rischi perché è così importante perché andiamo ad analizzare gli stessi dati che analizzano le banche ma li andiamo a analizzare in anticipo ok questo è il vero valore perché come abbiamo accennato l'altra volta l'obiettivo oggi accederà al credito non si accede nel momento del bisogno oggi è un percorso quindi devi conoscere le regole del gioco devi sapere come ragiona la banca per approcciarti nel modo giusto io per esempio ho identificato tre false credenze nell'imprenditore per esempio una cosa che vorrei chiarire la centrale rischi non è l'archivio dei cattivi pagatori in genere la centrale rischi è sconosciuta e si cerca proprio un po' di aver paura di queste informazioni la centrale rischi è semplicemente lo specchio della situazione finanziaria dell'azienda infatti è scritto proprio nel foglio informativo della banca d'italia che la centrale rischi non è una lista nera relativa cioè unicamente ai cattivi pagatori né un archivio dei ritardi di pagamento la centrale rischi raccoglie informazioni positive e negative benissimo esattamente così quindi è uno specchio della situazione finanziaria se l'andiamo ad analizzare periodicamente andiamo a vedere qual è la nostra situazione e siccome questi dati sono fondamentali per il rating poi l'obiettivo sarà quello di andare a migliorare la nostra situazione un'altra cosa importante è che la centrale rischi è sempre vista come uno strumento ad uso esclusivo delle banche è vista come uno degli strumenti segreti che usano le banche per giudicare le imprese e la clientela una cosa che ho scoperto ed approfondito sinceramente nel momento in cui sono uscito dal sistema bancario è che mentre la percezione è quella di uno strumento ad uso delle banche la verità è che la normativa Banca d'Italia prevede che il cliente può accedere a queste informazioni ed avere addirittura un accesso a informazioni più approfondite rispetto a quello che vede la banca quindi considera che vedere informazioni più approfondite significa poi intanto conoscere cercare di migliorarle ma approcciarsi anche alla banca in un modo completamente diverso rispetto a un cliente tradizionale perché alla banca faccio vedere che sto monitorando la mia situazione e a quel punto siccome vedo informazioni più approfondite posso relazionarmi e offrire queste informazioni alla banca dimostrando che mi sto relazionando in modo corretto e trasparente che è uno degli elementi fondamentali Marco io ti ringrazio questa puntata termina qui questa prima puntata sulla centrale dei rischi perché sicuramente dovremo tornarci per conoscerla ancora meglio per farla conoscere ancora meglio sia ai privati sia agli imprenditori perché è fondamentale è veramente fondamentale per rapportarsi correttamente con la propria banca grazie Marco e buona giornata benissimo grazie Giochino grazie a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti